Il treno Intercity, 12.091 di Trenitalia, delle ore 6.52 per Cosseto, è in partenza dal binario 2. Ferna Milano Centrale, Tavia, Voghera, Genova Piazza Principe, Genova Prignole, Santa Margherita Ligue, Portofino, Radallo, Chiamari, Sestri Levante, Levanto, Monta Rosso, La Spezia Centrale, Carrara Avenza, Massa Centro, Forte di Marmi, Serradezza, Pietro Santra, Viareggio, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Ceicina, Campiglia Marittima, Follonica. Il treno Intercity, 12.091 di Trenitalia, delle ore 6.52 per Cosseto, è in partenza dal binario 2. Il treno intercity, Giustatica e Matteo, di Abb